Lo sa cos'è questo circolo? Lo sa cos'è? Lo vuol sapere? Ebbene glielo dico, è un letamaio. Sì, è un letamaio, insisto, e non glielo ho detto prima perché sono un signore e il signore si nasce e io lo nacqui, modestamente, caro signore. Non solo non ci metterò piede io, ma non permetterò nemmeno al mio cameriere di mettere piede in questo ambiente lurido e fetente. La clausia Grazie a tutti.